musica bella a tutti ragazzi, benvenuti su Mix Game Studio, io sono Vicky e oggi siamo qua in un video in cui vi andrò a spiegare come realizzare il logo di Eminem da mettere come emblema sul vostro personaggio su Call of Duty Black Ops 3 come mai Eminem, direte voi? beh, perché Eminem è il mio cantante rapper preferito quindi ho deciso di portare come primo proprio il suo logo come una specie di tributo verso il mio idolo, mettiamola così comunque, adesso, il video non è proprio una cosa, una novità ho già visto un video del genere fatto da un nuovo youtuber, seudo youtuber americano però in Italia non ne sono ne sono tanti, anzi nessuno ho deciso di portarlo anch'io come primo italiano comunque, adesso vi lascio il video vi ricordo di lasciare like, commentare, iscrivervi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo ad un prossimo video ciao ciao we about to talk it up 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.